Ovviamente per ribadire la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza volevo capire quali sono le condizioni meteo previste per le prossime ore, cioè se voi ritenete che la situazione possa peggiorare, andare avanti o almeno arrestarsi e poi ovviamente come già avevo detto al Presidente Bonaccini quando ci siamo incontrati la settimana scorsa il Governo è a disposizione per fare quello che è necessario, se serve un Consiglio dei Ministri anche nelle prossime ore per approvare i provvedimenti necessari immediatamente si può fare tranquillamente sulle risorse, io e te abbiamo fatto una lunga ghiacchierata la settimana scorsa e ovviamente faremo tutto quello che c'è da fare per aiutare la popolazione, poi c'è un tema di messa in sicurezza il territorio, il Governo c'è, è una di quelle situazioni nelle quali bisogna tutti i livelli istituzionali, bisogna che lavorino al massimo delle loro possibilità e spero che si veda che noi ci siamo.